Professore, un'ultima cosa le volevo chiedere, Novavax, è un vaccino che le piace, pensa che risolverà dei problemi, pensa che potrebbe convincere gli ultimi degli indecisi, perché poi diciamo quelli che sono ormai fanatici contro il vaccino, secondo me non li convince più nessuno. Guardi, io penso che il Novavax, che è un vaccino tradizionale, sicuramente eliminerà qualsiasi alibi di carattere culturale o di esitazione a tutti coloro che dicevano che avrebbero aspettato un vaccino di questo tipo. Comunque è grazie a Dio che fortunatamente abbiamo avuto vaccini di altro genere, perché se avessimo aspettato Novavax, mi creda l'Italia avrebbe avuto moltiplici dei 150.000 morti che purtroppo piangiamo ancora dopo due anni di pandemia. Ecco, ben venga questo vaccino e spero che in qualche modo induca gli ultimi irriducibili a vaccinarsi. Professore, la ringrazio molto, ci vediamo molto presto. Io devo alleggervi invece quello che sta... Arrivederci, Mirta. Arrivederci, sta accadendo...